Grazie Presidente, intervengo nell'illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità proprio per evidenziare a nostro avviso il fatto che questo provvedimento presenta degli evidenti profili e degli evidenti vizi di costituzionalità, di incostituzionalità. È un progetto di legge che noi contestiamo nel merito, contestiamo nella sostanza, tant'è che abbiamo presentato anche una pregiudiziale di merito proprio per evidenziare come questo provvedimento, un provvedimento che non risolve assolutamente il problema del sovraffollamento delle carceri e al contempo mina alcuni principi fondamentali come il principio della certezza della pena, dell'efficacia e dell'effettività della pena, offende le vittime dei reati e mortifica il valore della sicurezza dei cittadini, sicurezza che viene fortemente pregiudicata e fortemente messa in discussione dell'applicazione di questo provvedimento, oltre a dei profili di merito, questo provvedimento per incapacità del Governo da un lato e per dilettantismo giuridico del Governo a nostro avviso presenta dei palesi vizi di incostituzionalità e quindi riteniamo opportuno prima e se mai si entrerà nel merito del provvedimento evidenziare come questa proposta di legge debba essere bloccata sul nascere proprio perché evidenti saranno i conflitti di costituzionalità che emergeranno anche durante il dibattito eventualmente successivo e ci stupisce, anzi ci auguriamo che tutte le forze politiche presenti in quest'Aula, soprattutto quelle forze politiche che hanno fatto della difesa della Costituzione, della difesa dei principi costituzionali possano evidentemente assecondare le nostre richieste e quindi votare la nostra pregiudiziale di costituzionalità proprio per impedire che un provvedimento dalla natura e dalla portata vergognosa, dalla portata è un vero e proprio indulto mascherato, non è un provvedimento che mira, questo provvedimento non è come è stato definito più volte dalla maggioranza e anche dal governo un provvedimento per salvare un salva carceri, questo provvedimento è a tutti gli effetti uno svuota carceri, anche alla luce tra l'altro delle dichiarazioni che ha fatto il medesimo ministro ed è un salva delinquenti, un provvedimento che mira a garantire l'impunità per legge nei confronti di coloro i quali si macchiano di reati e si macchino di reati. Colleghi, per favore, è possibile lasciar parlare? è un provvedimento che garantisce impunità per legge, soprattutto nei confronti di coloro i quali si macchiano reati di particolare allarme sociale, di particolare gravità sociale, sfido quest'Aula ad affermare che reati con pena fino a sei anni, perché questo provvedimento riguarda reati con pena fino a sei anni, sfido chiunque a dimostrare che i reati con pena fino a sei anni, tra i quali reati particolarmente gravi, ad esempio ne cito alcuni e poi saranno ovviamente oggetto qualora la pregiudiziale non dovesse essere accolta, il furto in abitazione, lo stalking, i reati di particolare allarme sociale e di violenza nei confronti delle donne, i maltrattamenti in famiglie, i maltrattamenti nei confronti dei minori, sfido chiunque di mostrare che questi reati non possono essere considerati reati di particolare allarme sociale e quindi proprio per questo noi eccepiamo tre motivi, tre violazioni palesi della Carta Costituzionale. La violazione dell'articolo 3 con riferimento al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, con questo provvedimento all'articolo 3 del provvedimento laddove si istituisce l'istituto della messa alla prova viene attribuito al magistrato, viene attribuito al pubblico ministero anche durante le indagini preliminari la possibilità di esercitare un potere assolutamente discrezionale nella concessione dell'istituto della messa alla prova. Noi ci troveremo di fronte al fatto che medesime condotte criminali verranno valutate da singole procuri in maniera difforme creando una palese disuguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge. Quindi vi è una palese violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge con riferimento all'articolo 3. Ci stupisce che forze politiche che in questi anni hanno voluto limitare e hanno voluto ridurre il potere dei magistrati oggi si trovino ad applicare, a volere, anzi peggio a sostenere una proposta di legge che va a determinare una discrezionalità assoluta, palese per quanto riguarda i magistrati nell'applicazione di alcune pelle detentive al carcere da un lato e dall'altro lato dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. Voglio ricordare cosa significa l'istituto della messa alla prova. Significa che c'è un procedimento, questo procedimento verrà sospeso, vi sarà l'applicazione della messa alla prova, l'imputato verrà mandato ai lavori di pubblica utilità, qualora i lavori di pubblica utilità verranno espletati, vi sarà l'estinzione del reato e la non menzione nel casellario giudiziario, quindi come se il reato non fosse mai stato commesso. E questo ovviamente indipendentemente dalla volontà o meno della parte offesa. Siccome in quest'Aula abbiamo più volte sentito, tanto in Commissione quanto nell'ipocrito dibattito avvenuto nella giornata di ieri, dire che questo provvedimento tutela e vuole tutelare le vittime dei reati, tutela le parti offese, tutela le parti lesi, io credo che nella correttezza dell'informazione bisogna dire che questo provvedimento non tutela assolutamente le persone offese, anzi rappresenta un'offesa ulteriore, una limitazione ulteriore dei diritti delle parti offese. Tant'è che noi chiediamo che le persone offese non solo vengano semplicemente sentite nella concessione dell'Istituto la messa alla prova, ma noi chiediamo che la volontà della parte lesa debba essere determinante e che quindi se la persona offesa ritiene opportuno porsi all'applicazione di questo beneficio premiale, la sua volontà deve essere assolutamente preclusiva dell'applicazione dell'Istituto della messa alla prova. E questo, qualora non avvenisse, confermando quelle che sono le previsioni contenute all'interno del testo, rappresenta un'altra palese violazione, la violazione dell'articolo 24 della Carta Costituzionale che garantisce il diritto di difesa ad ogni individuo. Ogni individuo ha la possibilità, ha il dovere, ha la necessità di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Questo provvedimento mina sin dall'inizio questo tipo di tutela e quindi usciamo da quell'ipocrisia di fondo e diciamo chiaramente che questo provvedimento non dà alcun tipo di garanzie nei confronti delle vittime e dei reati. E la Lega, se deve scegliere, se stare dalla parte di Abele o se stare dalla parte di Caino, la Lega non ha alcun dubbio rispetto a quale posizione sostenere. Noi siamo stati, siamo e continueremo ad essere a tutela di Abele, a tutela delle vittime e dei reati, vittime dei reati che in questo provvedimento non vengono nemmeno citate. Ci si dimentica di coloro i quali subiscono i reati. Anche questo è una delle motivazioni vergognose che hanno portato questo Governo ad approvare il Governo, la maggioranza, le forze politiche, PD, PDL, coloro i quali, ricordiamolo, nel 2006 votarono il provvedimento di indulto. Questo provvedimento è un indulto mascherato, è un indulto in cui si danno benefici e premi nei confronti dei criminali e dei delinquenti e in cui ci si dimentica totalmente e vergognosamente delle sorti di coloro i quali i reati li hanno subiti. Questo provvedimento è una resa, è una resa incondizionata dello Stato nei confronti della criminalità. Proprio oggi, proprio in questo momento in cui i crimini e i delitti, in modo particolare i crimini e i delitti predatori aumentano, rapina, furti, furti nelle abituazioni aumentano, la risposta dello Stato è di dare e di garantire impunità nei confronti di coloro i quali i reati li commettono. Non serve una risposta diametralmente opposta. Questo provvedimento, inoltre, è la certificazione di un fatto. È la certificazione che tutti i provvedimenti di clemenza, generalizzati e indultivi, che sono stati proposti in questi anni per poter affrontare un problema reale, un problema vero, che è il problema del sovraffollamento delle carceri, questo provvedimento è la certificazione che tutti quei provvedimenti che sono stati adottati sono falliti. Avete fallito e hanno fallito i governi che hanno adottato quei provvedimenti. Oggi continuiamo ad adottare un provvedimento che non risolverà assolutamente il problema del sovraffollamento delle carceri. Ed è per questo che noi abbiamo esercitato un'opposizione durissima in Commissione, eserciteremo un'opposizione durissima nell'Aula parlamentare, presentiamo questa pregiudiziale di costituzionalità perché a nostro avviso, e ovviamente non cito quanto ha sanato fortunatamente la Commissione Affari Costituzionali rispetto ad una norma, il Cbis, il sottosegretario lo sa benissimo, che era una chiara, palese delega in bianco, dimostrazione, ripeto, di dilettantismo giuridico da parte di questa maggioranza. Chiediamo quindi di approvare la pregiudiziale di costituzionalità, è un provvedimento sbagliato nel merito, ma è un provvedimento che viola in modo indecente la nostra Carta Costituzionale. Grazie.